Al suo avvio la funzione Accordi sui modi si presenta così. Sulla sinistra c'è la lista delle 12 note esistenti dalle quali far partire la scala diatonica con i suoi modi. La grande utilità di questa funzione è che con la velocità di un clic del nostro mouse possiamo vedere quali accordi si costruiscono sui 7 modi della scala diatonica partendo da qualunque tonalità. Se ad esempio volessi sapere quali sono gli accordi che si costruiscono sulla scala diatonica di Do non devo fare altro se non evidenziare il bottone corrispondente alla nota Do e cliccare sul pulsante di colore verde con la dicitura Apri. Ecco che immediatamente ho quasi tutte le informazioni di cui ho bisogno. Per cui sulla scala diatonica di Do il modo ionico produrrà l'accordo di Do maggiore il modo dorico l'accordo di Re minore il modo frigio l'accordo di Mi minore e così via fino al modo locrio che produrrà l'accordo di Si semidiminuito. Cliccando sui pulsanti più in basso con la dicitura Guarda e Ascolta l'accordo appartenenti ognuno ad un diverso modo della scala la funzione Accordi sui modi mi mostrerà la tablatura di quello specifico accordo e me ne farà sentire l'audio. Infatti, se volessi sapere come si suona l'accordo costruito sul modo Lidio della scala diatonica di Do clicco sul pulsante corrispondente, apparirà la tablatura ed ascolterò l'audio. Per chiudere questa informazione basta cliccare sul pulsante corrispondente Chiudi. Per effettuare un'altra selezione devi cliccare sul pulsante di colore giallo con la dicitura Nuova selezione. Ma la funzione Accordi sui modi è molto di più. Esiste un'app che puoi scaricare gratuitamente ma che è a disposizione solo per coloro che acquisteranno questa funzione che ti permetterà di portare sempre con te, sul tuo smartphone o tablet, la funzione Accordi sui modi. Cliccando una volta su questa scritta di colore rosso con la dicitura Clicca qui per aprire la pagina del QR code apparirà questa schermata. Qui potrai scaricare l'applicazione per smartphone o tablet di Accordi sui modi scannerizzando il QR code o scrivendo sulla barra di ricerca del browser del tuo telefono o tablet l'indirizzo internet che si trova qui in basso ma che in questo video tutorial è celato. Questa applicazione funziona solo ed esclusivamente sul sistema Android e non sul sistema iOS quindi se hai un telefono o un tablet Apple non potrai usufruire di questa applicazione. Il pulsante Guarda il tutorial aprirà una scheda del browser che hai installato sul tuo PC e ti farà vedere questo stesso video tutorial che stai guardando. Quando vorrò chiudere la funzione Accordi sui modi basterà cliccare sul pulsante Esci. Per qualunque tipo di informazione o segnalazione volessi fare su questa funzione o altre puoi effettuarla scrivendo una mail al seguente indirizzo assistenza.nsa.outlook.it Non ti scordare di scaricare la versione free demo di questa funzione dal link che ti lascio in descrizione in modo che tu possa prendere confidenza con Accordi sui modi. Oltre al link per il download diretto e gratuito di questa funzione troverai anche tutti gli altri link di tutte le altre funzioni. Notte Scala Accordi è un software pensato per i musicisti da un musicista. Buona musica e buono studio. Ciao e grazie per aver guardato.